Ciao da Avsim! Un gol di Kerman Pezzella su un flipper post-corner, pareggia per il Betis 1-1 e ferma il Girona che viene raggiunto dal Real Madrid che intanto vince e quindi in questo momento sono premi in classifica tutti e due a 45 punti con il Girona che ha subito 10 gol in più del Real Madrid ma ne ha anche segnati 3 in più e quindi sicuramente non è la squadra che farà la miglior difesa della Liga ma potrebbe essere la squadra che farà il miglior attacco come in questo momento ha il miglior attacco. Il Girona, parliamo quindi ancora del Girona di Michel, un'altra bellissima partita, affascinante, ritmata, vivace, frizzante, entusiasmante con tante cose dentro anche se poi le occasioni da gol non sono state poi tantissime, 4 tiri nello specchio per entrambe le squadre anche se il Betis ha tirato parecchio di più e quindi c'è stata evidentemente scarsa precisione o bravura della difesa nello sporcare determinate situazioni nell'impedire di arrivare al tiro in maniera troppo pulita partiamo a parlare però di come gioca ancora una volta il Girona, ne ho già parlato, continuiamo a parlarne perché continuiamo a parlare di calcio perché il calcio ci dà tanti spunti, l'evoluzione negli sviluppi tattici, degli accorgimenti di determinati allenatori in determinate squadre che non trovi altrove e anche dei paragoni magari troppo facili o semplicistici su come gioca una squadra rispetto a un'altra che magari ci piace di più per i contenuti che ci va a mettere ecco per esempio dico una cosa forse impopolare, in questo momento mi piace di più come gioca il Girona di come gioca il Brighton ecco, anche se sono un grande fan del Brighton grazie a De Zerbi e ci sono tanti ragazzi straordinari nelle fila del Brighton e Hov Albion quindi una squadra di De Zerbi che sono molto molto interessanti e che stanno facendo un grande calcio però a livello di sviluppo di gioco il Girona lo ritengo più bello, più interessante andiamo a provare a spiegare perché ma non è facile, non è facile perché c'è una certa complessità tattica per cui bisognerebbe essere esperti e io non lo sono in questa partita abbiamo avuto la conferma che il Girona sfrutta tantissimo gli esterni ma in maniera davvero particolare perché se gli esterni di centrocampo sono effettivamente di centrocampo cioè non sono mai altissimi ma sempre all'altezza della mediana o pochi metri più avanti quindi tra mediana e tre quarti e parliamo in questa partita di Jankouto a destra e di Savio a sinistra entrambi autori di una grandissima partita per intensità ritmo tecnica e intelligenza mentre abbiamo i terzini che fanno un doppio lavoro davvero fantastico e anche i centrali se vogliamo un tripolo lavoro perché Blind esperto centrale di difesa slitta frequentemente sulla sinistra a fungere sostanzialmente da terzino in fase di possesso quasi da terzino semplicemente da centrale un po' defilato consentendo a Miguel di andare a fare il centrocampista veramente tante volte in mezzo al campo Miguel Gutierrez grande partita anche la sua contro un Betis mai domo contro un Betis intensissimo contro un Betis che ha tenuto alta la tensione e l'attenzione capovolgendo poi anche l'inerzia del gioco nel secondo tempo quando ha preso il sopravvento con il Girona che è un po' regredito ma non troppo nel baricentro e nella tenuta difensiva quindi terzino che va in mezzo al campo non è una novità inventata da Miguel ci mancherebbe però la applica, la attua con maestria e funziona benissimo anche Eric Garcia dà il suo contributo insieme anche ad Alex Garcia che invece è centrocampista Alex buonissima partita, tanti palloni toccati, tanto sostegno all'azione d'attacco bellissima partita anche da parte di Ivan Martin che mi è piaciuto anche di più rispetto ad Alex Garcia Martin veramente dappertutto in tutte le azioni chi invece ha sofferto contro questo Betis sono stati proprio gli attaccanti Dovbic e Pablo Torre che poi infatti è stato sostituito, sono stati sostituiti anzi entrambi i primi cambi di Miguel infatti sono stati tolto David Lopez che è dovuto uscire al 33esimo sono stati proprio al 65esimo Pablo Torre e Dovbic per far entrare rispettivamente Portu e Stuani che non ha fatto il gol decisivo questa volta però ha dato il suo contributo seppur ripeto nella mezz'ora finale, nei minuti finali, il Girona ha attaccato di meno e forse anche peggio affidandosi a tante ripartenze non sempre precise ma soffrendo tanto l'intensità e l'aggressività del Betis che ha chiuso gli spazi ha impedito davvero in molte situazioni al Girona di uscire dalla metà campo c'è stata quindi questa difficoltà nel servire un pochino gli attaccanti bravura anche della difesa appunto del Betis che ha dovuto rinunciare immediatamente a Beglierin che si è infortunato in uno scontro di gioco nei primi minuti al 14esimo ha lasciato il campo ma che ha saputo tenere ripeto altissima l'intensità quindi una partita intensa, una partita vivace una partita dove si sono visti appunto questi dettagli tattici e tecnici davvero interessanti ottima prestazione soprattutto di Savio se parliamo degli esterni e se parliamo del gioco d'attacco perché è riuscito veramente tanto a mettere in difficoltà la difesa avversaria andando a cercare di riconquistare il pallone con le sue incursioni anche laterali con le sue giocate sull'esterno che sono fondamentali per il gioco del Girona come già dicevo ma non si tratta ovviamente di fare magari come fa la Roma visto che Girona, Roma, Girona ecco lo dovrebbe quasi trovare un'assonanza e cioè di lasciare l'esterno a fare i fatti suoi cercando qualche cosa invece no perché chiaramente la struttura di gioco del Girona vede sempre la partecipazione corale la partecipazione corale qualitativa di un po' di tutti i giocatori con le triangolazioni con la disposizione appunto triangolare sugli esterni e anche nelle zone centrali e in questo senso abbiamo anche una costruzione e un'impostazione in mediana quindi diciamo un'impostazione arretrata che ricorda in qualche modo quella del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso diversa ovviamente il Girona è una squadra molto più ampia rispetto al Bayer Leverkusen quindi va più facilmente sull'esterno, ama gli ampi spazi, ama le ripartenze anche rapide che portano quindi a giocare e a condurre palla in campo aperto però quando si tratta di calamitare un po' il gioco, di attrarre un po' il gioco e gli avversari in una determinata zona di campo per determinare l'inerzia della partita si vanno a fare queste triangolazioni negli spazi stretti triangolazioni dove è più complicato tenere palla invece di fare un gioco perimetrale come fanno tutte le squadre che hanno paura di perdere e di conseguenza non hanno abbastanza coraggio di vincere il Girona di Michel va a giocare lì dove è più difficile e la stessa cosa fa il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso quindi un'altra partita e un'altra squadra di cui stiamo appunto parlando che ci danno l'opportunità di apprezzare il calcio giocato bene non in senso estetico o meglio anche in senso estetico ma soprattutto che va ad incarnare i valori, i valori dello sport, i valori del calcio non avere paura di perdere, avere il coraggio di vincere e di conseguenza la voglia di giocare con le qualità e con le caratteristiche che si riescono a mettere in campo mai in maniera perfetta e talvolta viene anche punito appunto da un flipper che ti porta a subire il gol che ti toglie due punti probabilmente però al netto del maggior numero di tiri da parte del Betis il Girona pur con questa mezz'ora diciamo di maggior sofferenza o di ecco un po' di cedimento nel campo avrebbe meritato per la costanza negli attacchi e nel gioco avrebbe meritato probabilmente maggiormente di vincere ed è stata una partita a punteggio basso proprio anche per la bravura delle due squadre nel disinnescare le fasi d'attacco non tanto per una qualità bassa quindi ci sono partite infatti di altissima qualità che terminano con pochi gol anche con 1-0-0 eventualmente e ne ricordiamo anche da parte del Manchester City in Champions League la scorsa stagione non c'è nulla di scandaloso perché può capitare di non riuscire a segnare poi ci sono tante dinamiche diverse questa non era comunque una partita da una sola squadra in campo anzi ripeto è una partita prevalentemente equilibrata giocata da entrambe le parti ma con qualcosa in più dal mio punto di vista dal mio modesto punto di vista da parte del Girona che comunque è una squadra mista e lo abbiamo detto Savio è 2004 per esempio Jan Couto è 2002 quindi sugli esterni ci si affida alla gioventù alla giovinezza alla freschezza anche per avere più intensità più velocità che sono fondamentali lo stesso Pablo Torre che ripeto era un po' opaco ieri è un 2003 e poi ci sono ecco Miguel 2001 poi c'è Blind che è 90 e David Lopez che è 89 quindi una difesa compreso anche il portiere Gazzanica assolutamente anziana o comunque esperta e poi le vie di mezzo come Dovbic che è comunque 97 insieme alla X Garcia e Ivan Martin che è 99 e nei subentrati abbiamo anche più in seconda battuta quindi all'ottantesimo Valeri Fernandez 99 e Solis soprattutto che è un altro 2004 mentre Stuani è un 86 quindi una squadra mista con caratteristiche ben definite con giocatori che comunque anche chi subentra ricopre più o meno le stesse caratteristiche lo stesso ruolo e riesce a fare più o meno lo stesso calcio mantenendo sempre alta sempre alta intensità ne possiamo assolutamente dire che dopo il gol di Dovbic su rigore su rigore perché appunto diciamo che c'è stata una certa difficoltà nell'andare al tiro in maniera pulita e nel coinvolgere gli attaccanti il Girona ha mai abbassato la guardia ha mai smesso di attaccare e si è mai chiuso per cercare di proteggere di proteggere l'1-0 o di difendere l'1-0 no sono partite giocate tutte a viso aperto che man mano che si va avanti creano sempre maggior valore per le competizioni in cui vengono disputate vedasi la Liga maggior valore anche commerciale anche economico e di conseguenza siccome uno non può guardare in contemporanea più di una partita che riesce un paio o comunque deve scegliere non può passare tutto il tempo della sua vita a guardare partite di calcio e anche per quanto riguarda poi la spesa economica c'è da contenersi se aumenta la qualità di una competizione inevitabilmente rischia di ridursi la qualità o l'interesse o il valore commerciale di un'altra competizione che in questo caso è la Serie A quindi dal nulla o quasi arriva un Girona a dirci che si può fare calcio in un certo modo che si può essere primi nella Liga anche se al pari del Real Madrid magari poi non vinceranno la Liga ma chi se ne frega tutte queste emozioni tutta questa bellezza tutto questo calcio restano nella storia nella mente e nelle emozioni di chi le ha di chi le ha vissute di chi ha vissuto tutto questo e quindi lasciano il segno lasciano traccia non conta solo chi vince non contano solo i tre punti e questo dovremmo provare ad imparare dovrebbero impararlo innanzitutto le istituzioni poi i presidenti e a seguire i dirigenti allenatori staff e calciatori e nel mezzo anche tifosi e giornalisti da non dimenticare del calcio italiano perché il Girona del calcio italiano volendo c'è e può essere il Bologna ma non è primo può essere il Frosinone ma non è primo può essere il Lecce squadre che giocano bene senza investimenti faraonici però sono sempre esempi marginali e si continua a portare avanti un paradigma che invece è distante da tutto questo per esaltare invece questi esempi continuiamo a seguire queste squadre lo farò continuiamo a parlare di calcio dovendo fare una scelta perché avrei voluto guardare anche la partita del Real Madrid ma non mi è stato possibile e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione più che un'analisi specifica della partita sono sempre spunti che traiamo dalla singola partita per andare poi nel generale in quello che possiamo auspicare di vedere nelle partite di calcio e quindi buon dibattito nei commenti like al video se vi è piaciuto iscrivetevi attivate le notifiche abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e seguitemi su Avsim Out il mio secondo canale YouTube ci vediamo molto presto e per il calcio senza compromessi sempre Allegri Out e per la notifiche e per la notifiche e per la notifiche di calcio